A Roma, presso il Vittoriano, si può visitare il Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate. Qui è custodito il MAS 15, l'unità con la quale Luigi Rizzo colò a picco la nave da battaglia austro-ungarica Zent Istvan il 10 giugno 1918, facendo fallire il tentativo di forzamento del canale di Otranto. All'interno del Sacrario si possono ammirare molte bandiere da combattimento di unità navali della regia marina e della marina militare, un esemplare di siluro a lenta corsa, un pezzo dello scafo del sommergibile Shiree e alcune medaglie d'oro conferite durante la Seconda Guerra Mondiale. Dell'impresa di Premuda e della Grande Guerra sul mare abbiamo parlato in due live dedicate.